Allora, raccontaci un po' questa partita, le due sensazioni su tutto il gol che ha permesso Lecce di sbloccare l'incontro, già che ci sei, dici che cosa avevi da dire? Vabbè, sensazioni, era una partita che aspettavamo dopo i punti che abbiamo lasciato a Francavilla, i meritati, c'era una grande voglia di vincere uno sconto diretto, perché l'anno scorso è quello che ci è mancato a parte di West Abbey, quindi credo che a parte pochi minuti di difficoltà e poi quando siamo rimasti in dieci, per il resto credo si sia visto il vero Lecce, il carattere del Lecce, quello che vuole portare a tutti i costi i tre punti, anche se loro sono un'ottima squadra, l'hanno dimostrato, ma credo che oggi non ce ne sarebbe stato per nessuno, anche perché già da riscaldamento insieme ai miei compagni ci siamo accorti che c'era un'area diversa, ecco, avevamo proprio quella voglia di riscattare. Per quanto riguarda il gol, sono felice perché è arrivato in un momento diciamo di mezza difficoltà, ci ha permesso di andare in riposo su 1-0 e infatti ha tirato la gamba perché poi siamo riusciti subito a fare il secondo appena siamo rientrati, quindi è stato come un pugno per loro. C'è stata, in parte della vita vostra, una specie di raggi interiore che forse è durata dopo la partita, per l'ultimo minuto della partita con il Francaviva, è vero che questa sensazione... come dicevo prima, in settimana abbiamo parlato molto tra di noi per capire un attimino quello che potevamo sistemare e non possiamo prendere il gol in una squadra come noi, con tutti i giocatori esperti in campo al 94esimo, quindi quello ci ha fatto capire che oggi dovevamo dare un segnale, dovevamo dare una reazione e c'è stata, abbiamo vinto contro una pretendente come Secondo te poi, in un'altra partita hai giocato dietro la punta, è un ruolo che ti piace sempre qualche volta, visto il hacking di tiro che hai, potrebbe essere una menzione con gente? Beh, io diciamo che ho sempre giocato là, sono negli ultimi anni che da quando sono al Protone ho fatto l'esterno, proprio quando ero più piccolo ho sempre giocato là, diciamo che ormai mi sono pure abituato a giocare all'esterno, però se c'è bisogno come oggi, siamo rimasti in dieci, per dare una mano alla squadra sono disposto a fare tutto. Senti questa allarma, al di là del carattere che avevo dovuto mostrare, velocità, aggressione, ma soprattutto forse il desiderio di dimenticare quello che è successo. Sì, sì assolutamente, la differenza oggi l'ha fatta la cattiveria di portare a casa i tre punti, quella che ci è mancata agli ultimi minuti lì a Francavillo, la voglia e la determinazione. Senti, ti ha dato un missile del Rai per partire il Pinocchio, che cosa c'è? No, no, è stato un contrasto, una botta da due al poppaccio. Che cosa ti ha fatto uscire dal campo tra gli applausi? È una grossa soddisfazione per me, visto tante storie che ho sentito e che dovevo andare via, poi sono rimasto, praticamente mi davano quasi già in altre squadre, ho fatto tutto per campionato zitto, non mi ha detto una parola, mi sono allenato, non sono stato considerato a tutti, quindi per me oggi è stata una, non una rivincita, però ho dimostrato che io sono qua, ho voluto stare qua a tutti i costi, quindi tutto quello che mi sono preso io e i miei compagni ce lo siamo meritati. La curva ci ha chiesto a un certo punto di cacciare fuori le palle e credo che noi oggi abbiamo dimostrato che le palle ce le abbiamo.